Capitano, seconda vittoria consecutiva, complimenti! Grazie, siamo attraversando al momento un periodo molto positivo rispetto all'inizio di campionato. Questo inizio di campionato è un po' rilento, poi sono visti i periodi in picco. Infatti, l'avevo detto anche, quindi dovevamo trovare solamente l'assetto giusto in campo. Oggi abbiamo confermato comunque di essere una squadra che non merita, però possiamo lottare per andare in Serie B. Ancora ci vediamo le vittorie. Le potenzialità ce l'avete per lottare per un post in B? Io penso che si sia visto oggi in campo, anche le scorse partite nonostante abbiamo perso, anche contro una delle prime in classifica. Io ero in campo oggi? Dicono che sei solo tu. Ma finalmente, vabbè, allora dico, finalmente io. Capitano, e io non gioco. Grazie. No, vabbè, ci godiamo anche il capocannoniere che sono, quindi diciamo sta andando tutto molto molto bene. Prostruttore dovete essere insidioso, so che range, sono tostissimi. Hanno vinto oggi? Oggi hanno vinto credo 6 a 0. Eh vabbè, allora, speriamo di fare la terza vittoria consecutiva e poi vedremo. Vedremo. Al momento ci vediamo questa. Ho capito. Va bene, capitano, ti ringrazio. Grazie a te, ciao. Ciao, 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 ciao.